Settimana abruzzese al Padiglione Italia di Expo conclusa. Era una delle più attese quella che avrebbe regalato la massima visibilità ad una regione che da anni lamentava la scarsa comunicazione delle proprie eccellenze in ambito turistico, paesaggistico e di conseguenza commerciale. L'impegno era quello di diventare un tesoro svelato davanti agli occhi di tutti ed oggi si traccia un primo resoconto. Io credo che migliaia di persone abbiano visitato il nostro spazio straordinario che noi qui oggi un po' ricostruiamo, secondo la filosofia che l'università ha voluto dare a quello spazio. Uno spazio che ha visto migliaia di visitatori, tanta attenzione, tanta curiosità attorno a questa regione che finalmente si svela e si fa conoscere al mondo. Tantissime le visite ricevute per la nostra regione che scopre, stimatori non solo all'estero ma anche e soprattutto in Italia confermando la scarsa notorietà delle eccellenze abruzzesi fuori dai propri confini. La scoperta degli stessi italiani di una regione così vicina eppure mai raggiunta dimostra come l'Abruzzo si è in ritardo nel promuovere se stessa ma dimostra anche quanto potenzialità c'è. Se vogliamo, non legandolo all'Expo, però oggi possiamo fare un mini primo bilancio delle presenze turistiche in Abruzzo e noi registriamo il tutto pieno, sia in mare sia in montagna. Questo è un buon segnale che quando si riaccente la telecamera dell'attenzione sull'Abruzzo poi qualcuno ci viene.